La formazione scolastica in Abruzzo diventa digitale, una piattaforma pensata e realizzata dalla Regione Abruzzo in collaborazione con la ASL di Pescara per un unico lavoro di squadra con genitori, insegnanti, scuole, università e professionisti dell'educazione e formazione. Progetto Scuola Digitale Non Stop è pensato per sopperire alle difficoltà affrontate soprattutto dei minori nel periodo del lockdown, costretti ad una socializzazione forzata, anche sofferente. L'obiettivo di Regione Abruzzo è attivare la piattaforma entro due mesi dalla presentazione e nel giro di un anno tutti gli studenti abruzzesi avranno il proprio account personale. L'idea è proprio questa, di creare una socializzazione virtuale. I nostri ragazzi ovviamente vivono l'era della tecnologia, spesso si confrontano con la tecnologia comunque una socialità non controllata sui social, quindi è giusto che il mondo degli adulti scenda in campo, quindi vada a intervenire sui social e quindi sulla tecnologia per partecipare, per creare anche un colloquio con i ragazzi, perché i ragazzi anche la manifestazione di violenza che stiamo vivendo ultimamente con gli atti di bullismo significa che è una forma di protesta e quindi il nostro è quello di entrare con una tecnologia, una didattica controllata, per far sì che possano i giovani generare l'amore per lo studio, l'amore per la socialità.